Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Siamo con Ghostrunner 2, un titolo che attendevo particolarmente dopo aver apprezzato tantissimo il primo capitolo. Gioco frenetico, veloce, adrenalinico, anche abbastanza difficile. Dal punto di vista tecnico anche abbastanza carino da vedere, aveva anche del retracing quando è uscito, quindi quando ancora non era tutta sta cosa avere retracing nei giochi. Comunque, siamo per provare su PC, ovviamente forse ci faremo una serie, perché comunque io lo porterò fino alla fine, se a voi interessa fatemelo sapere, ci facciamo una serie. E niente. PC, max settings e andiamo. A presto. La sua fiazza non morta per defiare a tutti che ci siano. La sua risentazione. La sua disobediazione ironica. Ci ha mantenuto vivo. Viva. 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 E ora, con tutti i maestri, il tempo è venuto. per liberare noi. Per ricordare tutti di quello che eravamo prima. Una bella atmosfera cyberpunk. Una bella ambientazione che già abbiamo visto nel primo. Speriamo che in questo secondo l'abbiano ampliata. Possiamo usare una moto alla Tron. Fighissima. E non c'è nessuno per proteggerla. Dai, dai. È il momento di wake up. Tra l'altro, ho provato la demo poche settimane fa e mi ha colpito in positivo. Quello che ci ha mostrato la demo è esattamente quello che volevo. Il gioco è in netta continuità con quello che ci ha già portato il primo capitolo. Ma con una formula ampliata. Poi con sta moto, che ovviamente nel primo non c'era, vediamo qualche altre... altre cose. Sono già morto. Cominciamo benissimo. Vediamo. Ok. Molto bene. Ok. Ok, andiamo. Allora ragazzi, ho tolto la frame generation che è disponibile per tutti i possessori di RTX 4000 e a quanto pare il gioco è più fluido. Scatta di meno. Non so se è un problema mio in generale che dovrebbe essere baciato. Comunque, nel dubbio. Io ve l'ho detto anche se non è che si siano risolti per tutti i problemi. Vabbè, non è importante. Ok. Ok, dobbiamo uccidere tutti quanti. Questi sono delle pippe assurde. Infatti, sono all'inizio. Allora, noi dobbiamo guardarci ben intorno perché ci sono dei segreti che vanno scoperti. Che danno katane diverse delle skin, eccetera. E quindi della musica, magari delle soundtrack. Non mi sembra che ci si possa arrivare da questa parte. quindi andiamo avanti. Ok, dobbiamo parare per forza. C'è il Perry. Parata perfetta. Ecco, forse ci si arriva da qui. Yes, che ci dà? Un nuovo oggetto acquisito. Cos'è? Volantino? Volantino. Vabbè, ci sono delle collezionabili, insomma. Ma alcuni danno anche delle skin per le katane. Eh, insomma. Ok, ci siamo arrivati. Pensavo fosse Ray Tracing, invece no. Nel primo c'era. Ma dalle impostazioni non l'ho vista in questa. Sembrerebbe un passo indietro. Comunque. Ah! Ok. Mentre siamo in volo possiamo rallentare il tempo. per schivare i proiettili. Quindi, sì, è difficile come gioco. Non possiamo farci colpire mai, però... ...c'è anche qualche porca... ...facilitazione. Noi ragazzi, se lo state giocando su PC, fatemi sapere come vi gira, perché... Cioè, ci sono delle cose... ...tipo adesso è fluidissimo, però... ...appena entri in un'area nuova... ...carica e scatta, non so. Vorrei capire se è un problema mio o... ...como si è condiviso. Comunque. Anche perché... ...un titolo frenetico come questo... ...se mi scatta, mi fa perdere le... ...il mood, l'atmosfera. Che cazzo stava a fare quello lì, in lontananza? Da dove arrivi? Siamo pieni di cromo. Oh, un altro oggetto. Tra l'altro, sono segnati anche sulla mappa, ora che vedo. Non ci avevo neanche fatto caso. Non abbiamo ancora gli shuriken. Vabbè... ...le tremo dopo, magari. Che servono anche come... ...oggetti per superare dei livelli, quindi sono... ...ma guarda te, ne so buttarlo di sotto. Sono oggetti indispensabili. Oh! Dove cazzo sono finito? Oh, e c'è una nante. Stiamo... ...acquisendo un sacco di oggettini così... ...collezionabili, ma niente di... ...niente di utile. Niente di carino, poi. Una spada, secondo me. ... ...questo sembra interessante. Oh! Porca... Eh, me ne sono distratto un attimo. Faccio il tempo a dire che... ...sembra una cosa interessante. PAM! Ok, è abbastanza automatico. Non serve essere super precisi con i salti. Resistenza. Lo scat... ...il potenziamento sensoriale. I blocchi consumano resistenza. Si rigenera col tempo... ...ma la ricarica e si arresta durante i blocchi. ... Ok, blocca gli attacchi imminenti... ...prima che vada a segno per deviarli. Esatto. Questi con la mitraglia... ...ci finisce la stamina... ...non possiamo bloccare tutti i colpi. Quindi... ...ci lo facciamo. Eh... ...sì. Ah, giusto. Possiamo colpire anche mentre blocchiamo. ...vado solo sfonnato. Alla Doom. Perché non me l'ha spegnito indietro il colpo? ... 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 C'è un oggettino! Dov'è però? Di sopra? Ma non lo vedo. ... ... ... ... ... ... ... ... fune ninja che è il rambino sono fighe anche le zone platform di questo gioco fatte molto molto bene frenetiche veloci rapide dove devo andare e mi so perso no ah ok non l'ho visto scusa gli spietatoi per liberarti in aria allora colpi bello ci sono due lì quelli sono lontani ma sono tutti milì quello forse è e io te faccio salta la testa sempre milì vai facciamo fuori questi uccisi tutti e due con un coca bisogna fare attenzione perché se uno non se ne rende conto uuuh uno con la mitraviatrice poca vita nascosto qui oh devo riuscire a fare fuori questo ecco perfetto 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 ok di tempo tra l'altro sti droni li possiamo far schiantare e farli uccidere ma quella era troppo basso volava non ce l'abbiamo fatta comunque non è che sia necessario bellissima bellissima esecuzione sfide nascoste che ti metteranno a dura prova otterrai ricompensi in base a come le completerai cerca i terminali nascosti per iniziare la sfida ecco questa mi sembra nuova non mi ricordo ci fosse una cosa del genere nel primo 40 secondi per attraversare tutti i cybercancelli non me li fai vede prima vero? e come ci arrivavo su quell'altro? ho sbagliato ma come? 51 secondi diciamo che ho perso tempo con quello lì quindi dai si può si può fare si può fare magari in 40 secondi comunque difficile perché è difficile se non è ah brutto 40 e 53 per un secondino eh ce la devo fare no no qui non molliamo finché non ce la facciamo non ce la facciamo ho sbagliato oh si si perfetto vai 39,50 oro bella lì bella lì allora c'è uno gioettino tipo eh di qua il nostro obiettivo qua sotto eh di qua c'è uno che si 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 Ah, proprio non posso neanche essere toccato. Ha senso, ha senso. Se no che ci stavano a fastidiosi. Ah. Devo dare una regolata, però. La posso farcela? È così. Ok. Ok. E il level design su questo gioco è importantissimo. E il primo era fatto bene. Per essere un buon gioco, anche questo deve avere un buon level design, no? E qua. C'è pure. Sì. Oh, una katana, finalmente, di un altro colore. Possiamo selezionarla? Questa è quella base che abbiamo. Questa è quella che abbiamo trovato, vai. Va a vedere. Sì. Ok. E già, è una. Qualcosa, no? Se non sbaglio, nel primo, non c'erano sulla mappa le indicazioni, a meno che non si sbloccava un potenziamento. Ecco, qui non ho visto se ci sono effettivamente i potenziamenti. Quando serve un oggetto con un punto di aggancio premier per tirarlo verso di te. Non so se c'è l'albero delle abilità, ma penso di sia. Era una cosa che ci stava bene. Non c'è il fuocamico, questo, vabbè, lo sapevo. È più veloce di me. Meritato. Meritatissimo. Allora, questa è una zona piena di nemici. Vediamo un po' dove sono, chi ha che spara, chi non spara. Dobbiamo assolutamente eliminare... Porca, troia! Dobbiamo assolutamente eliminare quelli che sparano. Ovviamente, per primi. Ce n'è un altro più in là. E anche un altro... Ah, quello con la mitraglietta. Oh! Ma cavolo, ma cavolo. Ce n'è un altro? No? Ce sono due nemici? Forse entrambi mi livi. Vai. Facciamo schiacciare uno solo. Vabbè, fai bene. Ha funzionato. Vabbè, ognuno. Allora. C'è un oggetto, ecco. Chi è? Penso di là. Come lo raggiungiamo? Posso... Ok. Ah, qui è chiuso. Ah, vedi che bastardi è un gioco. Oh, un'altra katana. Questa rossa mi piace di più, sinceramente. In realtà è più... È semplice. Quindi forse ci teniamo il gufo. Ci teniamo il gufo. Abbiamo... No. No, no, no. Non è una missione. Non è una sfida. Possiamo andare adesso. Forse abbiamo finito il livello. Sì? Sì. Perfetto. Abbiamo trovato tutto. Cinque manufatti e cinque spade. Sono contentissimo di questa cosa. Ragazzi. Io vi ringrazio per la visione innanzitutto. Se volete... Cioè, io ce la farò comunque una serie. Perché è un gioco che mi piace un botto. Poi è così. È a livelli. È a sezioni. Poi nel primo era una torre. Quindi era a piani. Qui non so se sarà sempre una cosa simile. Quindi ogni volta finiamo con un ascensore. Sembrerebbe di sì. Non è detto. Ma non importa. E quindi si presta anche bene a una serie. Ogni livello. Ogni episodio. Un livello sta a posto. Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco. Se vi piace. Se lo state giocando. Se lo conoscevate già. Se lo aspettavate. Eccetera. Io vi ringrazio di nuovo per la visione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.